Le rappresentanze sindacali e aziendali dell'Aeroporto Liberi d'Abruzzo hanno dichiarato lo stato di agitazione preannunciando azioni che potrebbero arrivare al blocco delle attività aeroportuali. La richiesta delle RSA che lanciano con forte apprensione un grido d'allarme è di risolvere al più presto l'avvertenza dell'aeroporto che si è creata dopo il blocco dello stanziamento di 5 milioni di euro da parte dell'ex governo Letta che ha impugnato la legge regionale sul piano marketing dello scalo aeroportuale. Una situazione, scrivono in una nota le RSA, maturata per la negligente disattenzione e non curanza della classe politica abruzzese e che rischia di essere confermata nell'assemblea straordinaria dei soci Saga, convocata per il 10 marzo. Il rischio che si corre è la chiusura dello scalo. Oggi il comparto aeroportuale abruzzese genera un impatto occupazionale di oltre 1.500 unità. A pagare le conseguenze di un'eventuale chiusura dell'aeroporto, continuano le RSA, sarà tutto il sistema produttivo e turistico della regione. Annunciando lo stato di agitazione, le RSA rimarcano la totale mancanza di interesse e l'assenza di risposte concrete nei confronti di Saga e richiamano i vertici regionali a rispettare gli impegni assunti e la direzione aziendale a rispettare le corrette relazioni sindacali.